A meno di cinque mesi dalla fine del proprio mandato e dalle amministrative di maggio 2019 il sindaco della città di Pagani, Salvatore Bottone e la sua giunta hanno fatto gli auguri alla città tracciando anche un bilancio di quelle che sono state le attività amministrative di questo 2018. Un bilancio delle attività che secondo il primo cittadino giude positivamente un'annata dove si è provveduta ad aumentare e ad inclementare la forza lavoro sia a tempo determinato che a quello indeterminato, da buon padre di famiglia. Devo dire che questa amministrazione ha messo in campo delle attività importanti. Io l'ho detto, non lo dimentichiamo, amministrare questa città c'era bisogno del buon padre di famiglia. Per far ritornare questa città alla normalità c'era bisogno di una squadra che bisognava sacrificarsi quotidianamente. Il lavoro c'è ancora, c'è ancora da fare tanto perché i sette anni di vacche grasse sono passati in un niente. I sette anni di vacche magre sono quelle che ancora dobbiamo portare avanti perché il sacrificio di arrivare qui al Comune, trovare una cassa in negativa di oltre 2 milioni di euro, trovare oltre 5 milioni di euro di fondi vincolati a zero quel capitolo pari a zero. Poi chiederemo ovviamente all'assessore quanto c'è in cassa. Sì, poi chiederemo a lui quanto c'è in cassa, quanto c'è stato in cassa nel corso di questi anni, quanti interessi abbiamo pagato nel corso di questi anni per quanto riguarda gli anticipi, però e poi quanto pagavamo prima, quanta era la spesa per quanto riguarda la politica e quando oggi paghiamo per la politica. Questi sono numeri che la città non deve dimenticare perché quando si dice cosa ha fatto questa amministrazione, noi dobbiamo guardare queste cose perché il buon padre di famiglia prima di fare attività, prima di comprare, prima di fare assunzioni deve mantenere l'equilibrio finanziario. Il bilancio delle attività è positivo anche per quel che concerne il bilancio con il vice sindaco nonché assessore al bilancio Raffaele La Femmina che ha rimarcato come la cassa comunale nonostante un 50% di entrate in meno per quanto riguarda i tributi comunali, per il secondo anno consecutivo e giude con un attivo di circa 7 milioni di euro. Noi abbiamo ereditato una situazione pesantissima, un paese che ormai era nel baratro più assoluto, quindi era praticamente in dissesto. Siamo riusciti ad ottenere l'approvazione del piano di equilibrio che abbiamo puntualmente rispettato in questi anni, abbiamo mantenuto l'equilibrio di bilanci in ogni momento, abbiamo fin da subito tagliato gli sprechi, razionalizzato la spesa discrezionale. In questi anni non troverete nei bilanci un euro di rimborso spese trasferte per gli amministratori, quindi i costi della politica sono stati tutti al minimo. Nonostante quello che diceva il sindaco riguardo alle entrate perché ad oggi per il 2018 abbiamo incassato intorno al 40% della Tari, nonostante noi riusciamo ancora oggi a rispettare le nostre posizioni debitorie. Noi abbiamo azzerato milioni di euro di debiti ereditati dal passato e ancora oggi riusciamo a pagare tutti i debiti fuori bilancio. Quindi le casse comunali sono leggermente inattive, sono in tranquillità, non c'è pericolo di sesto? La devo correggere, non sono leggermente inattive ma sono inattive. Noi siamo partiti da una cassa negativa di oltre 2 milioni di euro, in questi anni è stato un crescendo, lo scorso anno abbiamo chiuso l'anno con una cassa intorno ai 7 milioni, quest'anno ci avviciniamo a questa cifra e grazie a queste attività, a tutto quello che hanno detto i miei colleghi è stato possibile fare queste attività, a programmare queste cose, quindi assunzioni, a tenere sotto controllo le partecipate, è stato fatto grazie al controllo dei conti, a una gestione oculata, a un accendellinamento delle risorse di cui disponiamo. Quindi se a breve partiranno, tra qualche giorno partiranno i lavori per i loculi cimiteriali, grazie all'attività che è stata messa in campo, partiranno i lavori per la ZTL, partiranno le attività che prima elencava l'assessore Palladino, le tante cose dette dal sindaco, le assunzioni, siamo riusciti a fare le assunzioni perché abbiamo reso sostenibili finanziariamente queste assunzioni.